Allora vediamo un pochettino se ci sta la telefonata, si ci sta, allora io non ho preferito, vediamo un pochettino poi vi devo fare dei saluti, pronto? 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 Ciao! Ciao, buonasera! Buonasera! Da dove chiami? Ciao! Da dove chiami? Sono Nicolina da Pavia! E ciao Nicolina da Pavia! Tutto bene? Ciao! Ciao Nicolina! Che piacere sentirvi e vedervi! Grazie Nicolina! Anche per noi sentirete! Anche brava! Infatti vedo che siete due belle persone, belli eleganti, state molto bene tutte e due! Grazie! Grazie Nicolina, grazie! Sei molto gentile, dimmi Nicolina! Posso ascoltare Vucchi Curallo? Vucchi Curallo? Va bene! Ok! La mettiamo in scaletta, non ti preoccupare Nicolina! Va bene, ok! Adesso devo cantare un'altra canzone e poi ti dedico Vucchi Curallo, va bene? Ah va bene, ok! Vuoi salutare qualcuno Nicolina? Saluto tutti, tutti i miei parenti, tutti quanti! Va benissimo, noi ci associamo! E a presto a presto a tutti! Va benissimo Nicolina! Va bene! Ok, un bacione a tutti! Ciao! E buonasera! Grazie Nicolina! Lasciamo la nostra Nicolina da Pavia, Meri! Sì! Dalla Reggio Calabria, siamo andati a Milano! A Pavia! A Pavia! Sì! Allora vediamo se ci sta un'altra... A Barra! A Barra! Vediamo se ci sta un'altra bella telefonata! Diciamo subito pronto! Adesso risponde Caserta! Pronto! Adesso risponde Caserta! Milano, Caserta! Enzo, hai visto? Qua è veloce! Ciao! Questo è l'amico nostro! Buonasera! Buonasera! Nostro Enrico Prunetti! L'avevo capito! Sto chiamando quello sempre a 40! Ma come si dà la prima a 40? Non si sente bene! Ma... Aiaiaiaiaiaiai! Ma perché tu non lo sapevi? Ma è chiuso in mele, ma io non so tutto! Io so tutto e non so niente, meglio! Bravo! Anche io! Ciao Enrico! Tutto bene? Come stai? Stai bene? Sì? Stai la febbra a 40! Eh beh, che io devo dire? Deveva a 42 la febbra a 42! No! Dai Enrico, ti auguriamo tante belle cose! Mi ringrazio, non vi ho gli urbani spazi perché sono molti cittonati, due la neri, siete talmente cittonati che non riesco a arrivare a capitare! Grazie Enrico, grazie! Grazie! Io volevo salutare la famiglia Landi, finalmente! E la carissima signora, non eri un fabbricino! Grazie! Con questa grandissima sciogherra, che veramente è la grande donna dello spettacolo! Sì! Enrico, sento, volevo salutare la famiglia Corvai! Sì, va bene, mi associo! Dico a Nicolo, mio carissimo amico da Mazzalone! Mi associo Enrico! Enrico, mio marito ti saluta, a te e a tua moglie! Alla Beppi! Chi è Enzo? Sì, sì, gli studi! Solo quello, c'è come marito! Ma mi direi, Enzo! Iaiaia, Enzo, vedi pure il bacione, hai visto? Enzo sta salutando, Enrico! Eccolo qua, eccolo qua! Eccolo, c'è, 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 c'è! Sicuramente, guarda, io, grazie a Mario Lanti, che mi ha fatto conoscere questa grande signora, e lo suo carissimo consorso Enzo, sono delle persone... Squisite! Ma io non so come definirle, ma... Per noi è stato un piacere! Per noi è stato un piacere! Niente, Mario, la prossima canzone, anche la Beppi sta proprio bene! Agni, 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 agni! Va benissimo, Enrico, allora la prossima anche per te, per Denna te, ma io non vi perderò mai! Non vi perderò mai! Perché? Niente, allora saluterò se mi chiamate, che mi chiameranno, e puoi aspettare, perché è veramente bellissimo! Va benissimo, Enrico! Ti abbracciamo e ti salutiamo! Un bacio a te, Carmelina! È una prestigia rapida guarigione, Enrico! Grazie, tre volte senti io! Grazie, ciao! Lasciamo l'amico nostro... Ciao, Enrico, ciao! Ciao, grazie, ciao! Lasciamo l'amico nostro, Enrico! Enrico! È stato un grande personaggio, un grande amico, lui è stato il mio primo manager! Lo so, lo so! E ne approfitto per salutare lui e tutta la sua famiglia, e la sua baby, con la prestigia rapida guarigione! Noi diciamo subito, pronto, e poi andiamo a cantare! Pronto? Ciao, chi sei? Pronto! Pronto! Ciao, chi sei? Sono una canzone a seconda! Sei una canzone a secondi piano? No, sono una tascia da secondi piano! Ah, una tascia da secondi piano, scusaci! Vuoi ascoltare una canzone? Sì! Quale? Uno a piacere! Una grazie a piacere! Va benissimo, non ti preoccupare, la prossima anche per te, va bene? Posso salutare? Sì, vai! Presto, presto, dai! Il mio zio vino viene in cacere? Sì! E tutta la mia famiglia! Va benissimo! Ci associamo, Meri! Ci associamo! A tutti gli ospedali allo Stato, con una prestigia rapida libertà! Ciao! Lasciamo questa bella telefonata a Secondigliano! Meri!